Dal 16 al 21 maggio da Eurospin, tante offerte a un euro! Prosciutto cotto fresche e fette alta qualità da 120 grammi, tonno a tena all'olio d'oliva 160 grammi e ricorda, con noi puoi risparmiare fino a 4062 euro all'anno! Dal 2013 abbiamo abbassato i prezzi di centinaia di prodotti. Eurospin, una spesa intelligente.